Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Dari applausi a 10 punti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Gràcies. Grazie. 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 La partita si è chiusa in parità, quindi sia l'Italia che la Francia acquisisce un progetto. In questo momento l'incontro è in assoluto per i tratti, siamo 13 pari, se avete il pubblico che tra alcuni minuti di tempo deve preparare il campo si passerà alla bocciata tecnica, andiamo crescendo verso delle gare più spettacolari. E poi nella bocciata veloce.